Buongiorno Notizia. Sette minuti dopo le nove a Buongiorno Notizia stiamo parlando di solidarietà, lo facciamo con i nostri ospiti in studio di oggi, Vittorio Maccarone e Giorgio Marino della comunità di Sant'Egidio. Con Vittorio approfondiamo questa materia. Voi ogni giorno portate cibo, portate pasti caldi ai senza tetto di Catania. Come avviene questo servizio? Allora è un servizio che non facciamo quotidianamente, facciamo settimanalmente. In particolar modo un gruppo di liceali, universitari ma anche giovani adulti va il martedì in giro per tutta la città a portare dei pasti alle persone che vivono in strada e che negli anni abbiamo conosciuto e con cui siamo diventati amici. Ed è proprio questo quello che fa la differenza. Infatti quello che diciamo sempre è che il panino è solamente il pretesto per poter andare da un senza tetto, conoscerlo, parlarci e diventarci amici. Per questo nessuno di noi ritiene di fare qualcosa di eccezionale, nessuno di noi ritiene di fare del vero e proprio volontariato perché quando c'è un'amicizia, se io e te siamo amici... Quindi si instaura un dialogo... Esatto, se io e te siamo amici e ci vediamo e parliamo, non è che io sto facendo del bene, sto solamente facendo quello che fa un amico. Quanti pasti portate settimanalmente? Settimanalmente portiamo fra il martedì e il giovedì, gestito da un gruppo di adulti alla stazione, 400 pasti più o meno. Ecco è bello poi sentirsi dire grazie perché appunto si instaura questo rapporto. È bello sentirsi dire grazie, è bello il sorriso, è bello in generale stare insieme, festeggiare i compleanni, cenare insieme in giorni che non sono quelli consoni, quelli in cui portiamo normalmente la cena. È bello appunto vivere l'amicizia fino in fondo. È un'opera la vostra che conciliate con i vostri impegni di ogni giorno, quindi con lo studio, con il lavoro diciamo. Quando avviene Supergiù? In che orari? Avviene principalmente negli orari serali, ma ovviamente ognuno di noi al di là di questo poi ha una propria vita, io studio, c'è chi lavora, c'è chi va ancora a scuola. Insomma non bisogna per forza dedicare il 100% del proprio tempo per poter essere amico di un povero. Ecco anche Giorgio fa una bellissima attività perché si occupa di bambini, bambini dei vari quartieri di Catania a cui assicura svago, divertimento ma anche studio. Sì. Insieme ad altri ragazzi. Sì sì sì. Io parto dalla fine. Cioè qual è la bellezza di questo servizio? La bellezza è quella di stare insieme, di sognare insieme, insieme a questi bambini dei quartieri storici di Catania. Trovare una soluzione a quelle che sono le problematiche del grande mondo, cioè la guerra, la difficoltà che affrontano i paesi per esempio africani. Cos'è questo servizio? Qual è la base di questo servizio? È lo studio, il supporto che facciamo ai bambini, ma soprattutto il dialogo. Perché è importante dialogare con i bambini, anche loro possono dare una risposta importante. Quando lo facciamo? Lo facciamo settimanalmente, martedì e venerdì, dalle 16 alle 18.30-19. E martedì e venerdì. Qual è la bellezza? Lo dicevo prima, stare insieme, discutere, dialogare, ma soprattutto far conoscere. Noi abbiamo un giro di 50 bambini e diversi operatori che stanno insieme a noi. Saremo come operatori una ventina ed è veramente bello. Si tratta anche di bambini, dicevamo, che vengono da quartieri difficili e con storie alle spalle difficili in qualche caso. Sì, sono i quartieri storici di Catania, perciò sappiamo che questi quartieri sono permeati da una grande violenza, da una grande difficoltà anche economica. Ma hanno anche un grande bisogno di amicizia, la bellezza di stare insieme a quella persona, la bellezza di ritrovarsi con quella persona e di affrontare sia i problemi quotidiani, ma anche la gioia di festeggiare compleanni, feste, fa trascorrere momenti importanti. Ecco come diceva Vittorio prima, bambini senza tetto, ma non è soltanto questo, la comunità Sant'Egidio non si occupa soltanto di questo? No, infatti ci occupiamo anche di anziani, di tutti gli anziani che purtroppo sono soli perché magari sono dimenticati, perché magari nella condizione di anziani gli è difficile uscire di casa e poter incontrare qualcuno, anche gli stessi familiari che troppo spesso sono impegnati nel proprio lavoro, nella propria vita personale, ma è anche migranti. Ci ritroviamo spesso nel porto ad accogliere i migranti che arrivano con le navi e a dirgli un benvenuto, che spesso è importante più di ogni altra cosa, più di un vestito perché li fa sentire veramente a casa, veramente protetti dopo aver affrontato un viaggio che è troppo spesso infernale. Quindi un sorriso iniziale per iniziare questa avventura, diciamo, in un paese che non conoscono. Un sorriso, una setta di mano e un welcome. Bravi ragazzi, chiuderemo la discussione con Vittorio Maccarone e Giorgio Marino tra pochi minuti per capire anche quelle che saranno le attività future della comunità di Sant'Egidio a Catania. Restate con noi.